Il dibattito, quindi chiederai agli uscieri di accompagnare il collega all'uscita. La prego, lasci l'aula perché per tre volte ha perturbato i lavori dell'aula. Ecco, mi sente in traduzione, la prego, lasci l'aula perché dobbiamo continuare il nostro dibattito in modo rispettoso fino a che lei non avrà lasciato l'aula, questo non potrà succedere. Quindi la prego, lasci l'aula. I would ask you sir, le chiedo di lasciare l'aula. Potrete organizzarvi voi i servizi perché si chieda all'onorevole di lasciare l'aula. La prego, non è possibile, non è possibile perché ci sono state delle perturbazioni da parte sua in tre occasioni, quindi veramente deve lasciare l'aula in modo tale da poter continuare il dibattito, un dibattito importante. Possiamo avere una discussione dopo, ma non ci può essere una discussione adesso dopo questa perturbazione. Quindi prima deve lasciare l'aula e poi riprenderò il dibattito.